Buongiorno a tutti, siamo ancora qui per giocare in realtà, perché l'idea è quella di parlare di competenze in modo serio come abbiamo fatto e serioso come abbiamo fatto fino adesso, ma anche per di nuovo per proporvi un modo di giocare e la regione ha pensato di nuovo di coinvolgervi in una campagna che si chiama CLIC, CLIC è un acronimo che sta per cattura l'immagine, individua il cambiamento. Come è nata questa campagna? È nata dall'idea di portare l'attenzione dei cittadini, degli studenti dei territori sul tema delle competenze, tema centrale che vi è appena stato presentato. Ci siamo interrogati su come farlo in modo coinvolgente e l'idea è stata quella di, è partita diciamo pensando a un social network, voi usate BeReal? Qualcuno di voi utilizza BeReal? È un social che usate? L'idea è nata, lo usi? Anche tu, l'idea è nata da lì, cioè di avere intanto un modo di comunicare che vada alla realtà, che sia reale, perché siamo tutti un po' stufi forse di quanto sono finti i social e di quanto poi anche l'intelligenza artificiale sta arrivando per rendere ancora più finta questa cosa e quindi c'è bisogno di verità. BeReal è simpatico, è divertente perché è immediato, cattura immediatamente una situazione ed ha una doppia visione. È un'inquadratura rivolta verso noi stessi e un'inquadratura rivolta verso il mondo. Cattura un'istantanea. Da questo concetto siamo partiti per dire ok, come possiamo raccontare il tema delle competenze, quanto le competenze cambiano il futuro e quindi Click nasce per dire ok, fotografiamo due momenti, il prima e il dopo, l'adesso e il futuro e raccontiamo questa cosa attraverso immagini, attraverso disegni, attraverso il coinvolgimento delle persone. Quindi tutte queste immagini, tutte queste creatività che vi chiediamo di mettere in moto e avete dato dimostrazione di averne parecchia, mettiamola a disposizione e facciamola girare in rete e partecipiamo al concorso fondamentalmente. Ci sono poi, Anna lo racconterà, dei premi e un regolamento per partecipare a questo concorso. A me piace molto l'acronimo Click perché il tema delle competenze secondo me è legato proprio a un Click che deve fare il cervello per far succedere qualcosa, ok? Ed è l'invito che noi facciamo a voi. Allora, parliamo di cambiamento, volevo sottilineare questo valore perché è un valore il cambiamento quindi mi raccomando sentite il cambiamento, lo state vivendo voi, voi vi state trasformando di momento in momento, di giorno in giorno state frequentando una scuola per diventare una persona che ha un lavoro, che ha un suo ruolo nella società. Quindi noi aspettiamo da tutti voi che partecipiate da soli, adesso vediamo chi può partecipare. Tutti i cittadini e le cittadine si può partecipare o singolarmente o in gruppo. I gruppi possono anche essere informali quindi come oggi avete giocato e avete inventato il nome di un gruppo lo potete fare. Possono partecipare enti pubblici, imprese, organizzazioni, le scuole, il terzo settore, gli enti di formazione l'università e quindi abbiamo cercato di comprendere tante persone. In una logica di inclusione vi accenno questo, vogliamo far partecipare anche quelle persone molto in difficoltà che sono anche i minorenni che sono nel carcere dell'Emilia Romagna del Pratello e quindi abbiamo chiesto anche a loro e andremo a trovarli venerdì 24 perché loro frequentano un corso di ristorazione, hanno un ristorante aperto al pubblico una giornata alla settimana, noi andremo lì, parleremo con loro e vedremo anche di coinvolgere loro. Allora qui alcune indicazioni per capire come si parteciperà concretamente a questo concorso che aprirà il primo di dicembre ma il sito è già online quindi se voi andate sul sito europaqui-r.it che vedete anche sulla cartolina c'è il QR code tutto, potete anche già lasciare il vostro indirizzo email in modo che quando apriremo il concorso vi informeremo. Allora il concetto l'ha spiegato anche prima Manuele, si tratta di due immagini che devono rappresentare un cambiamento legato alle competenze. Può essere come mi vedevo prima e come mi sento adesso, oppure come mi vedo adesso e come mi immagino nel futuro magari, il lavoro che potrei fare, quello che immagino. Le immagini che potete caricare possono essere foto, disegni, collage, grafiche, qualsiasi cosa, purché siano immagini statiche e che rappresentino appunto questo tipo di cambiamento. Ogni immagine dovrà essere intitolata, cioè non ogni immagine scusate, proprio l'elaborato che è costituito da due immagini, deve avere un titolo e una didascalia che spieghi meglio diciamo il significato di questo cambiamento. Poi tutti gli elaborati che saranno messi a concorso saranno pubblicati sul sito e potranno essere votati dal pubblico perché l'elaborato che riceverà più voti vincerà, cioè nel senso, adesso vi spiego meglio, che ci sono dei premi. Esatto, vedo che già siete più interessati. Allora, ci sarà un premio per tutti quelli che partecipano e probabilmente sarà una sorta di talk formativo, un momento di formazione a cui penseremo, ma che anche in funzione del target e delle persone che parteciperanno al concorso per dare qualcosa che sia davvero utile. Poi ci saranno, ci sarà una giuria regionale che definirà cinque premi per chi si candida in forma singola e cinque premi per chi si candida in in modo associato, quindi può essere un'impresa, può essere un gruppo informale, può essere una classe. Quindi sono cinque più cinque più un premio da chi riceve più voti dal pubblico. Quindi se voi candidate degli elaborati, poi dovrete anche promuovere il vostro elaborato e farlo votare il più possibile in modo da cercare di vincere il premio del pubblico.